Le DECO, ovvero denominazioni comunali, sono attestazioni che i comuni, ben 44 nelle Marche, hanno riconosciuto e stanno riconoscendo ai loro prodotti agroalimentari e ai loro piatti tipici, tradizionali e locali. Un patrimonio enorme che questa legge va a ordinare e a disciplinare anche al fine di promuovere le DECO stesse. Questa legge infatti, oltre che a istituire il registro regionale delle DECO delle Marche, va infatti a valorizzare questi prodotti, i territori da dove provengono, dando per la prima volta la possibilità agli stessi in maniera organica di essere presenti alle varie manifestazioni ed eventi organizzati dalla regione, nonché di usufruire dei canali telematici regionali. Inoltre la dotazione finanziaria che l'assessore al bilancio Goffredo Brandoni si è impegnato a reperire nell'anno 2024 per la promozione delle DECO stesse dà un ulteriore slancio a questo settore. Vorrei ringraziare i capigruppo di maggioranza cofirmatari di questa mia legge, nonché le associazioni di categoria agricole e del commercio e le proloco che hanno contribuito alla stesura di questa importante iniziativa legislativa.